Un popolo che non custodisce i suoi anziani, che non si prende cura dei suoi giovani, è un popolo senza futuro, un popolo senza speranza. Lo ricorda Papa Francesco nell'incontro con la comunità di Sant'Egidio a Trastevere di Roma, dove è nata. Ci sono i volontari e i poveri, gli anziani, i disabili e gli immigrati che la comunità assiste e oltre 10.000 persone nella piazza di Santa Maria in Trastevere. In chiesa il Papa ascolta le testimonianze di alcuni di loro e sottolinea l'importanza che l'attenzione ai poveri diventi incontro, abbraccio e si confonda chi aiuta e chi è aiutato. Poi torna a denunciare la cultura dello scarto, figlia di un'economia che mette al centro il denaro e non le persone e che scarta anche i giovani, in Europa 75 milioni dai 25 anni in giù che sono senza lavoro né studio. Oggi parlo dell'Europa. L'Europa è stanca. Dobbiamo aiutarla a rigiovanire, a trovare le sue radici, è vero, ha renegato le sue radici, è vero, ma dobbiamo aiutarla a ritrovarle. Questo è il tempo della misericordia, scandisce Papa Francesco, che invoca solidarietà, parola cristiana e dialogo, che è possibile soltanto a partire dalla propria identità. Poi visita la sede romana della comunità di Sant'Egidio e la invita ad andare avanti su questa strada, preghiera, poveri e pace, facendo crescere così la compassione e la tenerezza nel cuore della società.